La speranza che ci porta alla felicità è chiaramente compagna stessa della felicità, è una via per la felicità e nello stesso tempo potremmo dire che la felicità e la speranza tra virgolette sono un sinonimo perché una persona felice è una persona che ha speranza, che dona speranza, una persona che vive la speranza, che la incarna, certamente è una persona che è felice nel cuore e che genera, che butta, che semina semi di felicità nel cuore degli altri. E in questa nostra tappa abbiamo visto come la stessa speranza non è qualcosa soltanto di fine a se stesso, ma ha bisogno di altri, tra virgolette sempre, ingredienti per essere autentica. E quindi l'amore, l'incrediente della responsabilità, l'incrediente della pazienza verso gli altri, ma anche con se stessi, l'incrediente della, del sentirmi responsabile non solo di me stesso o del mio piccolo mondo, ma del mondo intero, di sentirmi responsabile anche dell'uomo e della persona singola che vive dall'altra parte del mondo, dall'altra parte di dove vivo io. Ma Papa Francesco ci consiglia ancora un'altra via per renderci felici, per darci una felicità robusta e per vivere una speranza feconda, una speranza autentica e non una speranza aleatoria. Troppo spesso noi pensiamo che vivere di speranza vuol dire vivere di illusioni, ma questo può accadere nel mondo, ma nella relazione con Dio, tra Dio e l'uomo non c'è mai illusione, ma c'è incarnazione, c'è storia. Quindi dicevo un'altra parola che noi dobbiamo necessariamente riscoprire e che Papa Francesco ci suggerisce. Una parola che apparentemente non ha nulla a che vedere, o ci sembra molto lontano dalla speranza, ma anche dalla felicità stessa. Il coraggio. Un cristiano, un uomo onesto, un uomo abitato dalla speranza, un uomo che cerca in tutti i modi la felicità, ma non solo sua, ma anche la felicità degli altri, la felicità dei propri amici, la felicità della propria famiglia, la felicità dei propri concittadini, la felicità del mondo. Madre Teresa di Calcutta non ha mai pensato a se stessa, ma solo e semplicemente agli altri, agli ultimi, ai poveri tra i poveri. È una donna più coraggiosa di quella. Dove la troviamo? Una donna piena di speranza e che ha donato e seminato speranza come Madre Teresa di Calcutta. Dove la troviamo? Una donna coraggiosa come Madre Teresa di Calcutta. Dove la troviamo? Tutti esempi che ci dicono come la speranza non è un'illusione, ma è fatto, è quotidianità, è incarnazione. Vi aspetto domani. Paripio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.